Ciao a tutti ragazzi, io sono Cello Fisis e oggi siamo qui in questo primo episodio di Attack of the B Team Ebbene sì, siccome ho terminato il Cello Pack, per meglio dire, non riesco più a farlo funzionare Ho deciso di cominciare una nuova serie e fra qualche episodio terminerò anche la Yogbox e Pixelmon Quindi ho deciso di cominciare questa nuova serie e poi magari ne comincerò anche un'altra Non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito Si sta bloccando? Perché? Ok ok, creiamo un nuovo mondo Perché è così lento? Vabbè, come si chiamerà questo mondo? E' Ferdinando Dispanduzia Anche se veramente non potrebbe avere due z, ma facciamo che è possibile Mettiamo la chest e poi strutture tipo... Uh, ce l'abbiamo soplenti! Non so un cavolo di questo pack però so che ce l'abbiamo soplenti da adesso Ok, bene, creiamolo e cominciamo l'avventura Per chi se non ricorda queste linee è la prima volta che le ho viste, le ho viste Si sta laggando un pochino perché crea il mondo La prima volta che le ho viste, le ho viste Oh Oh, perché è anche così tanto? È stranissimo Nella Agrarian Skies, ecco Comunque, eccoci qui Dove siamo capitati? Questo posto qui non è un gran che... No, come si apre la mappa? Ah, ecco Allora Siamo in una specie di luogo brutto Qua c'è del... Oro Oro Perché c'è del loro qui? Siamo in superficie, è stranissimo Vabbè Pig Ah, pig Ok, quindi eccoci qua nella Attack of the Beatty È un pacchetto per chi non lo conosce, soprattutto tecnico Ma le mod più belle che ci sono, secondo me, sono naturalmente la Fossil Poi la... come si chiama? Ciliegie Wow La Biomusoplantic è davvero una mod epica Aggiunge tantissimi biomi E poi la Tinker Mi sa Sì, la Tinker è una delle mie preferite Muori Maya C'è anche la Morph Adesso sono un maiale E come si apre l'inventario della Morph Non lo so Aiuto No, non è questo No, non è questo, di sicuro Ed ecco, ok V No X No Non è caspita Ah, ecco Come faccio ad attivare Aiuto Rimarrò un maiale per l'eternità Ok, allora E questo qui Ma non so come fare Forse è Forse è a mano libera Anche se adesso ho questa mano qui Oddio Non so come cambiare forma Ma farò un maiale per sempre Non voglio essere un maiale Oddio Non voglio essere un maiale per sempre Aiutami Per favore E' morto Ah no Come faccio? A cambiare forma Un attimo Oh, ce l'ho fatta Non so come caspita ha fatto Così? Ho capito Però adesso non posso più diventare il maiale Vabbè Comunque Siamo in questo luogo davvero orribile Dove possiamo andare? Di là c'è una foresta un po' più bella Uh, c'è pure AtropiCraft a quanto pare Wow Ci sono dei sani dungeon, mi sa Quelle robe lì Vabbè Li troveremo altri Tanto ci sono già due qui Se mai ci torneremo un giorno a vedere cosa sono Cos'è? Strawberry Uh, questo non l'avevo visto che ce l'avevo Sarebbe colorare le cose Epico Peccato che durano poco Ok, andiamo laggiù Lentamente Ok, allora Io non so dove stabilirmi Uh, pecore Ok, dobbiamo andare per prima cosa prendere le pecore Non so quanto dura in questa serie Perché io non ne so niente Quindi può durare da Dieci episodi Fino a sessanta O anche di più Ma no, è troppo difficile che questa cosa Che quando entri in un nuovo bioma Cambia anche il cielo Oh No, adesso sono una pecora E che Caspita I am Ashi Ok Oh, ma è strano davvero sto lag Devo cercare di risolverlo Un attimo Beh dai Dopotutto non l'abbia così tanto Ma non capisco perché Cos'è questa roba? Ah, meno male che non ci sono andato perché sono sobi immobili Mi turba questo lag Non so come risolverlo Oh, vediamo un altro bioma Essendo una pecora potrei mangiare l'erba forse No Non posso No Oh Allora che utilità essere una pecora Ok Cos'è? Sì, questa appunto è della tinker Ah, sabbie immobili No Uh, intanto mi salvo Ok Poi perché si chiamano sabbie veloci Siccome sono sabbie immobili Cos'è? Un gatto Oh Me l'ha neanche droppato Uffa No, sabbie immobili Uh, almeno posso prendere delle sabbie immobili per farci qualcosa Davvero strano queste roba che non capisco perché Vabbè è strano Uh, qua c'è anche questa mod qui che aggiunge tutte le cosette che tu puoi vedere Cos'è questo? Uh Uh E cos'è questo? Uh Ah, c'è anche la witchery Così posso vedere direttamente tutte le mod che ci sono Sono tante cose Formaggio Wow, molto bello Oh, sto già diventando notte Così velocemente Oh, che è stato? Che è stato? S'è stato È una poison ivy È un ivy di tipo vereno Ah, che battuto Wow Ok, vediamo un pochino Questo biamo qui non è male Caspita è quella roba Questo biamo non è male Potremmo anche stabilirci qui Anche se non davvero Abbiamo esplorato un bel niente di questo mondo Abnorme Ma esploreremo in futuro Sì, questo biamo non è affatto male Tende che ci sono un po' di sabbie immobili ovunque Ma vabbè Sono solo dettagli Ed è anche molto grande Quindi sì Potremmo stabilirci qui Perfetto Abbiamo già trovato una caverna Per Adesso Vai Oh Ecco Ora sono uno zombie Ma non so come si fa a restare i zombie Tipo Vabbè Mi potete scrivere nei commenti Perché io so Che Non so come Si fa a tornare normale Beh sì Si torna normale così Ecco Adesso sono Di nuovo io Però poi Non so come si ritorna Ad essere zombie Tipo Vabbè È strano Qui tappiamo Dammi sta torcia Il quantum Zoom Di qua cosa c'è? C'è della luce Lava Di già È strano C'è anche della redstone I minerali si trovano subito Mamma mia Mi ha spaventato Morde Sto mettendo torce ovunque Poi Non so perché Artifici Non so che sia No Non mi piace affatto Sto caverna Dobbiamo trovare un altro luogo È anche in fretta In fretta Arrivano tutti da là sopra Che caspita Una testa Che sprofonda Nella sua fine Aiuto Un arachnide Ah un arachnide Minuscolo Aiuto Che caspita è? Cos'era? Non ho visto Mamma mia come sono piccolo adesso Però mi posso rapicare Aia Aiuto 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 Oh Non ci vedo più nulla C'è un altro ragno Che mi sta seguendo Uh un altro Aiuto 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 Uh ma guarda quanti Uh ma Una zombie Una zombie No No Aiuto Aiuto Risparmi No No Guarda che schifo Di zappo che c'ho Ok quella direzione Non è bella Porta sfortune Beh direi che ci possiamo vedere Nel prossimo episodio Nel quale vedremo dove andare Direi di lasciar perdere Quella direzione E andare verso di qua Ok si Torno normale Aspetta Oh Ok Quindi ci vediamo nel prossimo episodio